Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei Saleva Mountain Trainer versione light GTX, un nome lunghissimo per lo scarpone versione light dei classici mountain trainer di Saleva, uno scarpone che non mi ha soddisfatto in pieno, infatti l'ho soprannominato lo scarpone dei tanti ma. Vi spiego il perché all'interno della recensione completa. Come sappiamo i mountain trainer sono degli scarponi di Saleva che hanno riscosso tantissimo successo sul mercato, tanto che Saleva ha deciso di farne varie declinazioni, questa è la versione light, quella che pesa meno, infatti nel numero 42 siamo attorno ai 550 grammi ed è veramente sorprendente come peso per uno scarpone. Ci sono tanti scarponi di Marche Competitor che vanno decisamente oltre, però avrà senso aver fatto la versione light andando a togliere peso? Adesso lo vediamo insieme e iniziamo a parlare di questo scarpone dalla suola. La suola è una suola pomoca, io l'ho testata a lungo su qualsiasi tipo di sentiero e inizio a dirvi che si comporta molto molto bene sui sentieri di fondo valle, single track, anche il fango perché comunque il tassello risulta essere bello alto e ha una buona presa anche nel fango. Una cosa che però non mi è piaciuta del tassello che essendo così alto mi è capitato di andare a prendere dentro tanti sassolini e quindi dover continuare a toglierli mentre camminavo. Altra cosa che non mi è piaciuta e per il quale storgo un po' il naso è il fatto che questa suola non va bene su roccia. Io mi sono trovato a camminare su roccia sia asciutta che bagnata. Asciutta dipende un attimo dal tipo di roccia, se è un pochino liscia non tiene praticamente nulla, se è abbastanza ruvida con qualche appiglio ce la si cava, rocce bagnate praticamente zero. Questo perché la gomma della battistrada è veramente veramente dura. Questo però ne conferisce a lungo andare un'ottima durabilità, infatti penso che con questi scarponi potremmo andare avanti a livello di suola almeno davvero tantissimi chilometri. Però sono curioso, voi avete provato qualche suola pomoca? Come vi siete trovati? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti che ne parliamo insieme. Continuando nell'analisi di questo scarpone passiamo all'intersuola. L'intersuola in eva risulta essere molto molto sottile. Questa cosa non mi è piaciuta perché a lungo andare su giornate di trekking molto lunghe il piede tende a stancarsi, il piede tende ad affaticarsi. Non si sentono i sassi sotto il piede, questo perché comunque essendo molto alto il tassello va a compensare lui il fatto che ci sia l'intersuola molto basso. Ma comunque un'intersuola così basso rende la scarpa veramente molto secca e a lungo andare davvero il piede si affatica parecchio. E sempre parlando dell'intersuola, nella parte del tallone troviamo anche un inserto stabilizzatore che ci evita che il piede possa svirgolare in questo senso quando andiamo a camminare. Passiamo a parlare della tomaia. Iniziando dal puntalino. Il puntalino con questo fascione in gomma risulta essere molto molto protettivo. Potete veramente prenderci a calci una roccia e non sentirete praticamente nulla. Puntalino promosso. Continuando troviamo tutta questa bellissima tomaia che alla vista risulta essere molto bella in TPU che però ha un grosso difetto, ovvero che essendo molto molto sottile la protezione è praticamente nulla. Quando andiamo a camminare su terreni magari un po' rocciosi dove magari qualche sasso potrebbe caderci sul piede oppure prendiamo dentro in qualche radice sentiamo tutto. Io sono arrivato a casa dopo che l'ho camminato su rocce, vi dico la verità, con male al fianco e al collo del piede proprio perché le rocce che cadevano sul piede, sassolini ma anche molto piccoli, le incentivo completamente. E questo, se devo essere sincero, mi fa dubitare un po' anche della durabilità di questo materiale, di questo TPU. Parlando però dell'aspetto di traspirabilità e impermeabilità beh, da questo punto di vista non c'è nulla da dire. Per quanto riguarda l'impermeabilità abbiamo una membrana Gore-Tex che svolge benissimo il proprio lavoro. Gore-Tex da questo punto di vista è una garanzia. Io ho immerso il piede in un ruscello con tantissima portata d'acqua per diversi minuti e praticamente non è entrata neanche una goccia. E per quanto riguarda la traspirabilità ho volutamente voluto far entrare dell'acqua per vedere in quanto tempo si asciugasse il piede e si è asciugato velocissimo e anche utilizzato in giornate particolarmente calde lo scarpone ha risultato veramente molto traspirante. Continuando, arriviamo a parlare del tallone. Qui troviamo un sistema 3F di saliva. Un sistema che abbiamo già visto su altri saliva mountain trainer che abbiamo recensito. È un sistema che mi ha sempre convinto, che mi convince anche su questo scarpone. Perché? Perché tiene il piede veramente saldo. Il tallone non si muove, ci asseconda molto bene i movimenti, evita che svirgolliamo, che possiamo prendere distorsione alla caviglia. Questo sistema veramente insieme all'allacciatura naturalmente è studiato bene, fatto bene. Mi è sempre piaciuto e io continuo a consigliarvelo anche su questo modello. Continuando l'analisi del tallone saliamo a parlare del collarino. Questo collarino mi ha soddisfatto in parte. È abbastanza stabile, il piede dentro rimane ben fermo, soprattutto grazie anche all'allacciatura, anche qua. Però una cosa che non mi è piaciuta, che ho riscontrato non essere l'unico che l'ha notata, è l'imbottitura. Probabilmente saliva, volendo fare uno scarpone molto più leggero, ha deciso di andare a diminuire l'imbottitura. E questo risulta un problema perché io ho avuto male su entrambi gli scarponi al livello dei malleoli. E non sono stato l'unico, perciò vi consiglio, se volete acquistarli, di andare a provarli in negozio, di farci anche un dieci minuti di camminata in negozio, perché in tanti abbiamo notato un'imbottitura minore sui malleoli e una forte pressione in quel punto. Ma la cosa che mi è piaciuta di più di questo scarpone, veramente piaciuta tantissimo, è l'allacciatura. Questa allacciatura parte praticamente dalla punta dello scarpone ed arriva fino alla parte superiore del collo. Questo ci permette di poter fare un'allacciatura veramente super precisa, di andare a serrare ogni singolo punto come vogliamo, con la pressione di serraggio che vogliamo. È una cosa che apprezzo tantissimo e infatti insieme alla Tomaya questo scarpone risulta essere molto fasciante, davvero tanto. Una piccola nota è che mi sarebbe piaciuto avere i primi passalacci autobloccanti in modo tale da non dover stare a serrare sempre la parte bassa, ma è proprio qui andare a cercare il pelo nell'uovo, ecco, diciamo la verità. Per quanto riguarda poi la larghezza dello scarpone, soprattutto sull'avampiede, questo scarpone è abbastanza largo. Io ho preso il mio solito numero 47, mi sono trovato super bene. È abbastanza largo, tanto che probabilmente Saleva ha già pensato che quando andiamo a camminare il piede tende a ingrossarsi, infatti l'avampiede è abbastanza largo per il numero che si va a comprare. E infine, soletta di Saleva, non ho avuto tanti problemi, soprattutto perché visto il serraggio che si può fare di questo scarpone, sono riuscito a tenere il tallone sempre al suo posto e non mi è mai scivolato il piede in avanti, se non nel momento in cui avevo magari lo scarpone bagnato, però in quel caso lì l'ho voluto bagnare io apposta, in teoria questo scarpone all'interno non dovrebbe bagnarsi. Perciò vi consiglio questa versione dei mountain trainer, questa versione light? Dico la verità, no. Secondo me ha poco senso. I mountain trainer sono stati veramente un punto di forza di Saleva e in questa versione sono andati a ridurne talmente tanto il peso che sono andati a sacrificare protezione, intersuola, quello che era l'imbottitura sul tallone. Secondo me, io non ve li consiglio, davvero. Ci sono degli scarponi, anche di Saleva, sempre della versione mountain trainer, che, va bene, peseranno 100, 150, 200 grammi in più, però sono decisamente fatti meglio a livello di protezione, a livello di durabilità, proprio in generale, io non me li sento di consigliare. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaurativo anche per questo video, io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!